Buongiorno a tutti e a tutte, sono Donato Pirovano, insegno filologia e critica dantesca all'Università degli Studi di Torino. In questa mia lezione vi parlerò proprio di filologia dantesca e in particolare offrirò delle note preliminari circa il testo della Divina Commedia. Allo stato attuale delle ricerche di Dante non possediamo alcun autografo, nemmeno una firma. E la circostanza appare sorprendente considerato che poco dopo la morte divenne subito un autore canonico, quasi un classico. E infatti ci potremmo chiedere chi non avrebbe fatto di tutto per tenere in casa e custodire come una reliquia, come una veneranda reliquia, una particola di Dante. Per di più, Leonardo Bruni, che era, come sapete, cancelliere della Repubblica Fiorentina, a cent'anni dalla morte di Dante, sostiene di aver visto degli autografi. Dunque, vi leggo proprio quello che dice Bruni, fu, ovviamente Dante, ancora scrittore perfetto ed era la lettera sua magra e lunga e molto corretta, Dunque, Bruni ci dice di aver visto delle lettere scritte da Dante e ci parla della sua grafia, che descrive come magra, lunga e molto corretta. I cacciatori di autografi per secoli si sono impegnati a cercare appunto autografi danteschi con grande accanimento. Qualcuno ha anche tentato di barare facendo passare per autografo quello che non lo era, comunque la lancetta è ancora ferma allo zero. Cosicché di Dante, come vi ho detto, non ci sono autografi e lui non può dunque entrare nei bei volumi degli autografi dei letterati italiani, dove campeggiano con tanti autografi Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio e dove ci sono anche autori più antichi perché abbiamo autografi di Francesco D'Assisi e anche di Giacomo D'Alentini. Chissà se il futuro riserverà delle sorprese e potremo finalmente trovare almeno una firma di Dante. Ciò nonostante, le opere di Dante sono tramandate da moltissimi manoscritti, ben più di mille. La parte del leone la fa ovviamente la Divina Commedia, che tra codici integrali e codici frammentari conta circa 850 testimoni manoscritti e il divario con le altre opere è enorme. La vita nuova e il convivio sono traditi da circa 50 manoscritti ciascuno, le egloghe da nove, i devulgari eloquenzia solo da tre manoscritti. Alcune epistole sono poi in attestazione unica. Della questio di acqua e terra è rimasta solo una cinquecentina e l'assenza di codici, oltre a un'argomentazione non propriamente congruente con la cosmologia del poema, ha ingenerato dubbi sulla paternità dantesca. Ma, secondo gli ultimi studi, pare che la questio sia proprio di Dante. Ma a noi qui interessa la commedia. Allora, la tradizione della commedia è intricatissima. L'inferno e il purgatorio circolavano quando Dante era ancora in vita. Abbiamo delle testimonianze esterne, secondo le quali si può affermare con un certo margine di certezza che tra il 1314-1315-16, allunghiamoci a 16, Inferno e Purgatorio erano conclusi e pubblicati. Il Paradiso, invece, fu probabilmente pubblicato postumo, l'opera è finita, ma pubblicato postumo ad opera dei figli e in particolare di Jacopo Alighieri. Ora, di questa tradizione in vita, cioè delle prime due cantiche che circolavano già prima della morte di Dante, non è rimasto nulla, nessun manoscritto. Della prima tradizione post mortem, nulla. Fa eccezione un venerando manoscritto, il Conventi soppressi H. VIII. 1012, che oggi è conservato alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, che fu copiato entro il terzo decennio del 1300 dal notaio Andrea Lancia. E questo frammento oggi detiene il record di codice più antico del poema, però il primato vale solo per la sua particola, che è circa il 2%, perché comprende soltanto una parte del ventiseiesimo canto dell'Inferno, tutto il ventisettesimo canto dell'Inferno e poi una parte del ventottesimo canto dell'Inferno. Ecco, potete vedere questo manoscritto. Questa è la scrittura di Andrea Lancia e cominciate già a intravedere la mise en page tipica della Divina Commedia, o meglio, dei primi codici della Divina Commedia, che è su due colonne con l'inizio di ogni terzina che rientra nel margine. Faccio scorrere qualche immagine. Vedete, qua inizia il canto 27. il copista Lancia ha lasciato qui lo spazio vuoto nel caso in cui si volesse aggiungere una lettera iniziale rubricata e filigranata e questo è appunto, come vedete c'è anche la rigatura, proprio perché, come avviene oggi nei fogli che compriamo, nei fogli di quaderno, anche allora i copisti rigavano i manoscritti prima di iniziare il loro lavoro in modo da, soprattutto per i codici in pergamena molto costosi, che servivano, le righe che servivano ovviamente per una calligrafia e un ordine migliore. Allora questo appunto è il codice record, quello più antico. Però abbiamo detto circa il 2% della Divina Commedia. Il record allora del codice integrale, cioè tutta la Divina Commedia più antico, lo detiene il codice Ashburnamiano, nome un po' complicato perché apparteneva a un lord inglese, Lord Ashburnam, che ha il numero 828 e che oggi si trova alla biblioteca mediceo-laurenziana di Firenze. Non a caso questo codice è chiamato l'Antichissimo. In bibliografia vi ho indicato il sito Dante Online, facendo questo percorso, quindi andando su manoscritti, manoscritti della Divina Commedia che si possono visualizzare, potete anche visualizzare alcuni dei codici, vi ho detto che sono più di 800. Allora, l'Ashburnam 828 è questo qui, facendo questo percorso si può vedere il codice. Eccolo qua. Questo è il cosiddetto antichissimo e questo è l'inizio dell'inferno. Come vedete abbiamo ancora una impaginazione su due colonne con la prima terzina, con l'inizio, con la prima terzina con lettera N rubricata e filigranata in grande e l'inizio di ogni terzina, come vedete, rientra nel margine sinistro. Con anche questo segno qui che sembra una C è alternatamente rosso e blu e questo segno si chiama paragrafo, tanto è amara che poche più morte, ma per trattare del ben che io vi trovai dirò delle altre cose che io vo scorte, eccetera. Questo è dunque l'antichissimo altri codici molto antichi non vi ho detto la data dell'antichissimo siamo intorno al 1334 e è un manoscritto che è stato copiato a Pisa. Altri codici molto antichi e che sono di quegli anni sono il codice Landiano 190 della Biblioteca Comunale di Piacenza Landiano perché la Biblioteca Comunale si chiama Passerini Landi che è stato copiato nel 1336 da Antonio da Fermo e il bellissimo Tribulziano 1080 della Biblioteca Tribulziana di Milano opera del calligrafo Francesco di Sernardo da Barberino. Andiamo a vederli Allora, il Landiano lo trovate ancora in Dante Online andando avanti nella tabella ecco qua Piacenza Biblioteca Comunale si conosce anche il nome del copista Antonio da Fermo dunque un marchigiano tra l'altro il codice dovrebbe essere stato copiato a Genova e qui trovate il Landiano ancora una volta vedete l'impaginazione su due colonne tipica di questi manoscritti della prima tradizione dantesca e come vedete viene lasciato un grande spazio bianco che doveva servire al rubricatore per la N il rubricatore non è il copista e interviene in un momento successivo nell'Andiano però questa rubrica non è mai stata scritta per vedere invece il Trivulziano 1080 trovate comunque l'indicazione in bibliografia dovete fare un percorso diverso ed è grafiche in comune comune di Milano ecco qui avete i codici della Trivulziana se qui scriviamo Triv1080 troviamo il nostro codice Trivulziano la legatura è ottocentesca ed è eh stata messa dal suo possessore il marchese Trivulzio poi qui trovate anche gli stemmi della Trivulziana e qui abbiamo eh la prima pagina vedete è davvero un calligrafo eh guardate la scrittura che è molto diversa l'avrete riconosciuta da quella dell'Antichissimo perché la scrittura dell'Antichissimo è una littera textualis che era la scrittura propriamente libraria invece questa scrittura qui è la corsivo cancelleresca allora trovate la rubrica in rosso poi come vedete la prima lettera non solo eh filigranata e rubricata ma anche con un'immagine Dante Virgilio nella selva e poi l'inizio appunto dell'inferno però il maestro delle figi domenicane che è colui che ha illustrato i frontespizi di questo codice vuol dire che ha illustrato l'inizio dell'inferno l'inizio del purgatorio e l'inizio del paradiso come vedete allunga con immaginando un albero no allunga la sua immagine e qui trovate Dante assalito dalla lupa più sotto ci sono gli altri animali vedete come se fosse una sorta di fumetto quindi eh un'immagine continua qui è Dante con la lonza qui trovate Virgilio quando soccorre Dante ma trovate Dante disteso per terra nella selva cosa che non c'è nel testo dantesco questo perché l'illustratore eh che diventa anche una sorta di commentatore si prende una libertà di esecuzione e questo abbiamo detto è il bellissimo Tribuziano eh 1080 anche del Tribuziano 1080 che è stato copiato nel 1337 abbiamo ehm il nome del copista si chiama Francesco di Sernardo da Barberino dunque un toscano ed è appunto in questi anni quindi negli anni trenta del trecento che inizia una produzione seriale della commedia con caratteristiche ben riconoscibili uso della pergamena taglia medio grande più o meno una misura simile a un nostro foglio A4 impaginazione a due colonne come avete visto scrittura corsivo cancelleresca che è predominante presenza di miniature ed iniziali colorate eccetera evidentemente la domanda del pubblico era molto alta se c'è una produzione seriale e le attese dei lettori consigliavano una tipologia libraria comune e riconoscibile e guardate che non è un capriccio antico anche noi oggi quando cercavamo e cerchiamo i libri di Camilleri che riguardano il commissario Montalbano ci immaginiamo il formato sellerio anche noi oggi se volessimo pubblicare una raccolta di poesie non chiederemmo all'editore un formato grande tipo catalogo di storia dell'arte ecco su questi codici su questa produzione seriale della Divina Commedia diffusa a Firenze tra il 30 e il 40 e comunque prima della Peste Nera c'è una simpatica testimonianza di un letterato del 500 che si chiama Vincenzio Borghini ve la leggo gli scrittori di quei tempi ecco per scrittori dobbiamo intendere i copisti furono per la maggior parte persone che ne teneano bottega aperta e vivevano di scrivere libri a prezzo e si conta di uno si racconta di uno che con cento d'anti che egli scrisse maritò non so quante sue figliole allora un copista secondo il Borghini ha copiato cento volte la divina commedia in modo simile ovviamente e questa questo lavoro così intenso gli è servito per fare la dote alle figlie è una testimonianza simpatica ovviamente considerato il tempo che ci voleva per copiare la divina commedia dai tre ai sei mesi di lavoro non è possibile credere che qualcuno abbia copiato cento volte quel poema però qualcosa ci dice ci dice che c'era una produzione seriale che c'erano botteghe di scrittura atelier di scrittura in cui Dante veniva continuamente copiato e guardate che allora l'editore non non c'era la stampa non tirava tante copie immaginando poi di venderle non c'erano le ricerche di mercato si copiava solo a cottimo su domanda per cui vuol dire che la domanda era molto alta in questo periodo che è detto anche Danti del Cento proprio perché come ci ha detto Borghini c'era qualcuno che le ha copiato cento volte quindi è nata questa formula Danti del Cento guardate che abbiamo circa 80 85 codici di questa produzione quindi sono tanti in questo periodo e siamo tra il 1330 e il 1340 a Firenze dunque nasce il mito di Dante protagonisti della promozione dell'illustre cittadino sono alcuni appassionati cultori per lo più notai dei quali oggi si comincia a intravedere qualche profilo uno l'ho già nominato è Andrea Lancia un altro è l'anonimo autore del cosiddetto ottimo commento che non è più in Lancia come alcuni ritenevano Lancia ha fatto un commento tutto suo un altro è chiamato amico dell'ottimo proprio perché non conosciamo i nomi si usano delle formule che si ricavano anche dalla storia dell'arte questi cultori di Dante non si accontentano solo di copiare e di diffondere il poema e le altre opere di Dante almeno le rime e la vita nuova ma si spingono anche a spiegare la divina commedia come dimostrano appunto i loro commenti e in alcuni casi gli apparati di glosse questa del commento comunque è un'esegenza avvertita subito cioè la divina commedia nasce come libro che ha bisogno di essere commentato se il primo commentatore Jacopo Alighieri che è uno dei figli di Dante ha lavorato quasi subito a commentare l'opera del padre subito dopo la morte di Dante tra il 22 e il 23 ma in quegli anni lì subito dopo la morte di Dante addirittura a Bologna Jacomo della Lana licenziatus in artibus et teologia e quindi noi oggi diremmo laureato in arte e teologia commenta tutto il poema di Dante ora l'icastica poesia dantesca favorisce però un altro tipo di commento che è il commento figurato quindi non solo un commento testuale ma anche un commento figurato e abbiamo visto prima sul tribunziano 1080 le immagini di un grande miniatore che è il maestro delle figi domenicane ovviamente anche di lui non conosciamo il nome per cui lo chiamiamo con questa formula un altro grande miniatore è Pacino di Buona Guida il quale detiene oggi il record dei codici minati del poema che sono ben 26 alcuni di questi codici hanno un ricco corredo decorativo per esempio il codice Palatino 313 che si trova alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ha 37 miniature soprattutto dell'Inferno 32 sono dell'Inferno le altre del Purgatorio e del Paradiso questo cosa significa che la Divina Commedia nasce anche come libro da illustrare e diviene presto un classico ma anche un testo da illustrare e non a caso poi nel corso dei secoli in tanti tra cui anche importanti artisti pensiamo per esempio al Doré pensiamo al Dalì si sono cimentati nell'impresa di illustrare il poema ma negli anni quaranta in cui nasce appunto questo mito di Dante avviene un fatto importante da Napoli rientra in Toscana Giovanni Boccaccio Boccaccio trova subito un ambiente imbevuto di Dante come una spugna e lui ci si immerse con passione e con entusiasmo e si distinse grazie al suo non comune ingegno e grazie a Boccaccio se il culto di Dante spiccò il volo Boccaccio cercò notizie raccolse testimonianze si impegnò in prima persona nell'attività editoriale copiò quattro volte la vita nuova di queste sue edizioni ne possediamo due e tre volte la divina commedia scrisse una biografia dantesca e in tarda età l'esse Dante pubblicamente è l'inizio della lettura d'Antis che anche oggi va di moda l'esse Dante pubblicamente nella chiesa di Santo Stefano in Badia ben pagato dal comune di Firenze comune che ha incaricato Boccaccio suppressione delle dei cultori di Dante che volevano che qualcuno di autorevole commentasse Dante e addirittura lo commentasse in chiesa allora Boccaccio non è un copista professionista non è come Francesco di Sernardo da Barberino o come gli altri che avete visto ma è un copista per passione però con una cultura grafica ed editoriale invidiabili sapeva scrivere sia in lettera textualis sia in corsivo cancelleresca anche in mercantesca quindi conosceva più grafie però e questo non lo possiamo pretendere Boccaccio non è un amanuense passivo è un editore che lasciò un'impronta marcata nella tradizione di Dante ecco pensiamo alla vita nuova ecco nei suoi manoscritti Boccaccio stacca le cosiddette divisioni cioè il commento che Dante fa ai suoi testi e le mette in margine capite che è un'operazione editoriale rilevante e lo è stata se considerate che la maggior parte dei codici della vita nuova sopravvissuti derivano proprio dai capostipiti del Boccaccio e dunque per secoli finché Barbie non ha fatto l'edizione della vita nuova possiamo dire edizione critica della vita nuova la maggior parte dei lettori ha letto la vita nuova non come l'aveva progettata Dante ma come la ridisegnò il Boccaccio passiamo alla commedia mi ho detto che Boccaccio copia tre volte la divina commedia contro la prevalente mise en page oggi potremmo dire se volete anche layout di pagina con termine che deriva dal word che anch'io ho qui davanti Boccaccio sceglie di copiare il poema su un'unica colonna vi faccio vedere un esempio prendendolo sempre dal Dante online allora il tribunziano lo lasciamo qui nel Dante online trovate uno dei tre manoscritti di Boccaccio che è il Riccardiano 1035 eccolo qua Riccardiano perché è conservato alla biblioteca riccardiana di Firenze ecco e siamo all'inizio dell'inferno allora qui vedete l'inizio dell'inferno questa è la scrittura di Boccaccio è una lettera textualis piuttosto morbida ma vedete come Boccaccio ha scelto una impostazione editoriale completamente diversa da chi lo aveva preceduto perché copia il poema su una sola colonna lasciando molto spazio bianco e quindi essendo un codice in pergamena il costo era molto alto i motivi per cui Boccaccio scelse di operare in questo modo non sono chiari è chiaro il desiderio di creare una nuova impostazione editoriale ma perché lasciare così spazio bianco probabilmente è dovuto al desiderio poi di aggiungere delle glosse di commento o commento vero e proprio comunque Boccaccio eh fu decisamente il l'editore che influenzò maggiormente i codici del tardo 300 e molti dopo di lui seguirono il suo modello questo ha portato poi a delle scelte editoriali ben precise sulle quali parleremo alla fine nella tradizione della commedia ben 293 testimoni di quegli 850 circa sono trecenteschi e se calcolate che gran parte del dei manoscritti sono andati perduti pensate che non abbiamo manoscritti né della tradizione in vita né dei primi anni dopo la morte di Dante dovete calcolare la grande fortuna che Dante ha avuto già nel trecento tantissime altre opere tantissimi altri codici si diffondono nel secolo successivo nonostante gli umanisti nonostante una netta scelta a volte fin troppo rigorosa degli umanisti per il latino la divina commedia continua ad essere copiata e la divina commedia è anche uno dei primi testi ad andare in tipografia nel 1472 quindi circa vent'anni dopo la cosiddetta invenzione della stampa caratteri mobili da parte di Gutenberg nello stesso anno 1472 vengono stampate in tre città diverse le prime tre principes della commedia l'edizio princeps è la formula che indica la prima edizione a stampa di un'opera la prima di queste a Foligno l'undici aprile la seconda a Venezia il diciotto giugno e in un giorno imprecisato comunque sempre nel 72 un'altra a Mantova la divina commedia è la prima opera di Dante ad approdare in tipografia solo il convivio vanta un incunabulo incunabulo vuol dire una edizione a stampa del quattrocento perché il convivio venne stampato a Firenze nel 1490 tutte le altre opere devono attendere il cinquecento le rime vengono stampate nel 1518 e poi nella famosa giuntina di rime antiche che è una miscellanea di vari autori antichi 1527 il De vulgari eloquenzia nel 1529 con anche il volgarizzamento del trissino noto anche perché tentò vanamente di applicare una riforma alfabetica introducendo la distinzione tra la E e la O aperta e chiusa le epistole nel 47 la monarchia nel 59 la vita nuova addirittura nel 1576 questo è strano perché una delle opere che oggi riteniamo più note di Dante e più lette di Dante la vita nuova deve attendere circa 100 anni prima di approdare a una stampa le egloghe ebbero una fortuna tipografica tardiva perché una princeps parziale è del 1719 e poi del 26 e quindi come vedete anche in questo campo della stampa è la divina commedia a fare la parte del leone perché dopo le principes si susseguirono si susseguirono tantissime edizioni a stampa in particolare ebbe un valore culturale importante la cinquecentina 1502 di Aldo Manuzio curata da Pietro Bembo l'illustre editore si servì di un codice molto famoso che trovate nei codici digitalizzati della Vaticana è il Vaticano latino 3199 perché è un codice molto famoso perché era stato comprato da Boccaccio è di una biblioteca fiorentina per essere regalato all'amico Petrarca che evidentemente nella sua biblioteca non teneva una divina commedia questo codice sul finire del quattrocento divenne di proprietà di Bernardo Bembo padre di Pietro e Bembo ha lavorato su questo codice per la sua edizione per la Aldina come si dice visto che è stata stampata da Aldo Manuzio del 1502 è un'edizione che ha fatto scuola perché per tutto il 1500 il testo di Bembo è stato il testo dominante nonostante qualche riserva qualche tentativo di cambiamento e fu dominante fino al 1595 quando l'Accademia della Crusca e questo è interessante perché è una sorta di impresa collettiva propose un nuovo testo della Divina Commedia ma nel 500 avviene un altro fatto che dobbiamo ricordare 1555 a Venezia nella tipografia di Giolito che tra l'altro era di Trino Vercellese viene stampata una edizione della Divina Commedia in formato piuttosto piccolo in ottavo così come era l'Aldina immaginatevi più o meno il formato di un Meridiano di un Oscar insomma viene stampata una commedia che è affidata come testo come preparazione del testo a un letterato che si chiama Ludovico Dolce ecco il dolce per la prima volta mette il titolo Divina Commedia quindi quel titolo lì che non è dantesco di solito il poema era chiamato Commedia abbiamo visto nei primi manoscritti il Bembo addirittura lo chiamò in maniera anche forse un po' esagerata le terze rime di Dante titolo che non ha avuto assolutamente successo bene il titolo che conosciamo oi oggi il più diffuso la Divina Commedia è un titolo del 1555 messo dal dolce in questa edizione giolitina e deriva da una formula che però si trova già nel trattatello in laude di Dante di Boccaccio cioè quella biografia che Boccaccio scrisse per onorare il poeta capite perché è intricata la tradizione della Commedia perché man mano che ci si allontana dalla sorgente più il testo viene in un certo senso corrotto e la nuova filologia quella che nasce tra 7 e 800 sicuramente avrete sentito il nome di Karl Lachman cioè la nuova filologia che tenta di ricostruire di ritornare al testo originale deve fare uno sforzo in mane in assenza appunto dell'autografo per ricostruire la tradizione della Commedia perché uno sforzo in mane perché le testimonianze sono tantissime abbiamo detto più di 800 e il poema è molto lungo il metodo degli errori si basa all'inizio sulla recensio cioè sulla raccolta di tutte le testimonianze e qui direi che siamo ben messi perché tranne forse qualche codice in qualche biblioteca privata o in qualche archivio ancora inesplorato direi che la recensio della Divina Commedia è quasi completa ma il problema è l'accollazio cioè il confronto di tutti i codici per cercare di risalire attraverso il metodo degli errori a quello che doveva essere il testo originale di Dante e però è un lavoro in mane visti non solo le testimonianze ma anche i manoscritti che via via si diversificano no? ecco che dunque per la Divina Commedia sono state cercate delle scorciatoie cioè dei metodi che ancora oggi non prevedono come dovrebbe essere secondo il metodo di Lachman in purezza non prevedono il confronto totale di questi codici che nessuno ha mai fatto e che magari un giorno un calcolatore potrà fare delle scorciatoie ora con il metodo dei loci critici cioè andare a selezionare i codici almeno su determinati errori e fu un metodo che si diffuse nell'ottocento che però doveva essere solo preparatorio e che qualcuno oggi invece ha usato oppure un altro tipo di scorciatoia e veniamo proprio su questo ultimo metodo perché con questo noi poi concludiamo questa lezione quando noi oggi compriamo la Divina Commedia probabilmente compriamo ancora una Divina Commedia basata sul testo di Giorgio Petrocchi benemerito filologo studioso di Dante Petrocchi lavorò per conto della società dantesca italiana dietro di lui c'era l'ombra rassicurante di un grande filologo Gianfranco Contini che allora era presidente della società dantesca italiana e preparò la sua edizione rassicurante negli anni sessanta e uscì poco dopo il centenario della nascita di Dante cioè tra il 1966 e il 1967 qual è la scorciatoia seguita da Petrocchi allora innanzitutto il titolo si chiama la Commedia secondo l'antica vulgata la scorciatoia di Petrocchi è quella di riconoscere un'antica vulgata vuol dire tirare una linea e sbarrare orizzontalmente la tradizione cioè Petrocchi considerò per la sua edizione solo i codici precedenti il lavoro di Giovanni Boccaccio nella consapevolezza che Giovanni Boccaccio proprio perché come abbiamo visto è un copista per passione interventista ha inquinato la tradizione della Commedia secondo i calcoli di Petrocchi tirata questa linea che approssimativamente coincideva col 1355 data secondo lui del codice oggi conservato a Toledo che è il primo dei tre copiati da Boccaccio secondo Petrocchi dentro questa linea ci sono 27 manoscritti e lui ha lavorato su tutti quelli ha fornito direi un testo pregevole e ha fornito l'apparato cioè le varianti escluse dando modo dunque agli specialisti di capire i motivi dell'esclusione e dell'inclusione ora però ci sono a distanza di 50 anni due problemi molto seri il primo a detta dei paleografi e a detta dei codicologi cioè coloro che studiano le scritture antiche e che studiano i manoscritti come manufatti se anche volessimo considerare la linea tracciata da Petrocchi i codici non dovrebbero essere 27 ma 85 capite che allora tutto l'impianto tutto lo stemma codicum disegnato da Petrocchi salta ma poi c'è un altro problema è stato dimostrato direi anche con argomentazioni persuasive che Boccaccio non ha inquinato la commedia che il lavoro di contaminazione e il lavoro di corruzione del testo sono indipendenti da lui e sono già evidenti per esempio in quel manoscritto 3199 Vaticano latino 3199 che lui aveva comprato da regalare a Petraro ecco che allora dal punto di vista metodologico il lavoro di Petrocchi un lavoro davvero meritevole non tiene più ecco perché allora ci sono stati soprattutto in tempi recenti cito Antonio Lanza cito Federico Sanguinetti cito Enrico Malato cito Giorgio Inglese ma anche Paolo Trovato che ha pubblicato qualche saggio e fra annuncia fra poco una nuova edizione della Divina Commedia allora capite perché siamo in un cantiere di lavoro il testo Petrocchi è stato un testo rassicurante ha fornito la vulgata sulla quale noi abbiamo studiato abbiamo imparato Dante ma è molto probabile che fra qualche anno ci sarà un nuovo testo della Divina Commedia non aspettiamoci grandissimi cambiamenti però di fronte a un gigante come Dante anche una virgola è un cambiamento grazie